Benvenuti in un nuovo video Allora come potete vedere sono sulla schermata di Abin Per dare il benvenuto in questo nuovo video Qui ci siamo pronti a tornare a parlare di FC24 Prima di portarvi tutti gli altri contenuti E adesso vi spiego qualcosa Vorrei farvi vedere la mia rosa di FIFA Arrivata a questo momento della stagione Chiamiamola così che siamo intorno al periodo di dicembre, inizio gennaio Adesso vi spiego la mia squadra Che per un mese non ho giocato Però ho continuato a fare qualcosa di interessante E sono riuscito a trovarmi questa squadra Che adesso confederò fino alla fine Giocando in maniera un po' diciamo Di tornare regolarmente a giocare Al nostro amato FC24 Amato Chiamiamola così tra virgolette Nel frattempo avevo registrato un altro video Ma la console che adesso sto utilizzando Non me l'ha fatto registrare Non ho capito come è possibile Vi devo ancora capire un po' di cose Però nel frattempo adesso vi faccio vedere la rosa Spero che sta registrando E non vada buttato tutto via Nel frattempo partiamo con la rosa Partiamo con il primo giocatore Il portiere Il classico portiere Quello che deve dare una grande mano alla squadra E io parto con Peter Cech Peter Cech all'attivo 14 partite Ho giocato pochissimo da quando l'ho avuto Non lo so come definirlo Gioco bene abbastanza Sono contento di aver trovato un portiere Vediamo se si mantiene anche nel lungo andare Partiamo con la difesa Primo difensore di destra Andiamo con Di Lorenzo Questo Di Lorenzo è Champions Ho sette partite Ma avevo un altro Champions di Lorenzo No, con l'altra carta speciale di Lorenzo In questo caso E per il momento si mantiene ancora bene Di Lorenzo E non posso dire ancora nulla di particolare Però Sono contento che Ho trovato lui Ma ho trovato un'altra carta Di terza di destra che dopo vi faccio vedere E devo vedere Chi metterla da destra Da tutte e due Primo difensore centrale Non è cambiata tanto da quando ho iniziato E Tomori speciale Questo Tomori Non so che carta Doveva essere Senturione Doveva essere sì Senturione Quello di 100 presenze Qualcosa E dove da 175 partite 5 gol 3 assist Tanta roba Tanta tanta roba Soprattutto 87 velocità 88 difesa 84 fisico E un bel mastino Davanti alla difesa Con l'altro difensore centrale Formano una bella coppia Anche se all'inizio Abbiamo avuto tanti problemi Infatti forse L'unico giocatore Che ha più di 200 presenze È proprio Darmiano Perché è il primo giocatore Che ho avuto In questo gioco 33 gol 2 assist 284 partite Questo è quello là Di evoluzioni Se l'Inter passava avanti Di girone Prendeva anche Miglioramenti In questo caso Deve vincere Se vince due partite La fase di girone Vende un altro if E se si qualifica Vende un'altra Upgrade Quindi questo va a crescere Dipende dall'Inter Cosa fa nel cambiamento Della Champions Da ora in poi Dai ottavi Fino a salire Completiamo la difesa Con il terzino sinistro Che è Bombastor Sonia Bombastor Hero Da nulla L'ho trovata Ho 5 partite Non ho giocato tanto Perché l'ho trovata recentemente L'ho vista giocare Quasi con tutti Chi ha un terzino A massimo C'ha lei Quindi Devo dire Mi sto trovando bene Per il momento Quelle 5 partite Che ho fatto Sono contento Di provarla Adesso Ultimamente La devo provare Nelle Rivals Nella Weekend League Che tra poco Giocheremo E di una vita Non male Non male Veramente non male Bella carta Può fare tutta la fase attacco Infatti è molto Più provenza All'attacco Che alla difesa Però Di verità Non male Adesso Andiamo al centro campo Adesso vi spiego anche Cosa è cambiato Nella mia formazione Io parto sempre Con un 4-3-3 Offensivo Quindi con due centrocampisti E il trequartista In questo caso Per vari motivi Tecnici Tacci A parte Vedete che sono tutti Primo proprietario Non ho comprato nessuno A massimo sono tutte SBC Fatte Ho cambiato modulo In questo caso Passiamo al centro campo Il primo centrocampista Quello di destra Che io uso Per difendere E Nandez Centurione Speciale Upgradato Era 83 L'ho fatto diventare 85 E le statistiche Parlano da solo 142 partite 15 assist Quindi è colui Che rimane sempre dietro E non lo faccio mai avanzare Potrebbe fare anche L'esterno destro Ma non mi interessa Lo metto davanti alla difesa E quindi Chiudiamo là il cerchio Al centro campo Ottima carta Pecca nel Nel tiro Ma non mi interessa Ho aggiunto un po' di velocità E un po' di difesa Che difesa mi servirebbe tanto Fisico E ottimo E ottimo Recuperatore di palloni La carta più bella Secondo me di questo gioco E' proprio quest'altro Centrocampista Centrale Quello di sinistra Che è un Icon L'ho fatta Nell'Icon Garantita Non mi ricordo 80 più 90 prime Non mi ricordo che carta era Ho trovato questa Abilì Che Io non sapevo chi era Non la conosco neanche Però Nel andato a vedere Ha fatto più o meno 20 partite a campionato A parte solo Forse Leone Che ha concluso Con 248 partite Ma devo dire Che è qualcosa di clamoroso Questa ragazza Veramente forte 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 4-4 8 partite Un gol 9 assist Da centrocampista Che la metto Ovunque La trovo Recupera palloni Vince i contrasti Fisicamente Perde un poco Però A 90 di passaggio 89 dribbling 89 tiro Quindi E' devastante E niente Mi sto trovando benissimo Con le partite che ho fatto E adesso Dobbiamo Veramente Mettere la marcia Per vedere Come va anche La weekend league Adesso Passiamo All'attacco Vi ripeto La formazione è cambiata Perché uso Il 4-1-2-4 E adesso In attacco Vi faccio vedere Abbiamo Belì A destra Forse Devo fare un cambiamento In attacco Che non mi rado Chi ho Belì A destra Che ho sempre Utilizzato Se non sbaglio Punta lui E tenevo a destra Un'altra carta Che dico E dire 64 partite 28 con 37 assist Tanta roba Molto veloce Questa è un'altra Evoluzione speciale Che ho fatto E tanta tanta roba Belle statistiche Non troppe stili Di gioco particolari Però Come esterno destro L'attaccante È devastante Prima punta Perché penso Andiamo con il primo attaccante È Beto Ma lasciamo stare Beto Perché non è lui l'attaccante E deve essere Oland L'attaccante Che adesso Dopo vi faccio vedere Quella che ci hanno regalato A tutti È Oland Il garantito Poi abbiamo Il primo attaccante Vero Che è Victor Rosimel 161 partite 190 con 73 assist Ok Molti diranno Potevi fare meglio Puoi fare l'evoluzione Puoi fare questo Quell'altro No Mi tengo lui Devo dire È buono Io ho messo sempre Quel finalizzatore Così mi dà una mano Equilibrio Agilità Ma De la verità Quando prende palla Difficilmente la perde In velocità De la verità Mi trovo bene Mi trovo bene Concludiamo la rosa Con Yumi Insomma Forse lui Insieme a Darmian È uno dei primi giocatori Che ho avuto Fatta 250 partite Quasi 130 gol 76 assist 5 debole 4 skill Quindi Devastante 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 Che dire La rosa Questa è quasi Sono tutti Primo povetario Potete vedere Tranquillamente Fino al portiere Sono tutti Primo povetario Tra cui Anche la panchina La panchina Abbiamo Ian Carta speciale Lee Khan Carta speciale Madison Che mi accompagna Insieme a Forse lui Insieme a Cose Quello che ha Più partite E presenze Fatte Perché Ricordo Che ha Questo stile Di gioco Che si chiama Palle inattive Che è devastante Su punizione E calciotangoli Infatti Avrò fatto Penso 5 secondi Su calciotangoli Poi abbiamo Lo fotocic Fatto Carta speciale E poi Holland Che è il titolare Di questa squadra Dove giocare Così la squadra E dovrebbe essere Perfetta Ultimi due Nesti Che sono arrivati A recente Sono Recentemente Poco Sono Dunfries E Fabio Cannavaro Questo Fabio L'ho fatto Nel video precedente Che avevo registrato Tranquillamente Ma FIFA Non me l'ha permesso Cioè il gioco La console Non me l'ha permesso Di registrare Non ho capito come E niente Ci teniamo Questo Cannavaro E questo Dunfries Che Vediamo se Mettele in campo O no Perché Cannavaro Mi piace un botto Però rispetto a tutti Gli altri Non vince Per esempio Dalamiano Vince uno In difesa E vince anche E difensivamente Parecchio pure di stacco E invece Tomori Vince in velocità Vince in fisico Però perde difensivamente Parecchio in passaggi Vince in tiro E dribbling Anche se dribbling Devo aiutare Dribbling e tiro Non mi interessa Per un difensore centrale Però Per altre statistiche Velocità Non è male Quindi Mo devo scegliere bene Io che puntare L'allenatore Lui è giusto Perché devo dare L'allenatore Mi chiamo Oland Questo qua è Oland Quello che hanno regalato a tutti Per chi ha comprato Prima dell'evento Una cosa L'ha prenotato Infatti io ho la potete 4 gol 4 assist 4 partite Giocate Quindi tanta tanta roba Non è male Molto buono Giustamente rispetto all'originale È più scarso Però È gradi Se ce lo teniamo E poi la mia Giocatrice Preferita O il giocatore preferito È lei Thomas Pace in una SBC Fatta 95 partite 27 gol E 15 assi Ne direte Voi direte Ha fatto poco Ma lei Mi risolve Un botto Di partite Quando entra Mi risolve Le partite Quindi la devo solo Ringraziare Tenere qua E metterla a titolare Punto Basta Questo è il gioco La rosa è questa Le tattiche Con calma Ve le farò vedere Anche se siete curiosi E niente Questa è la rosa Questa è la rosa Che affronteremo Ultimamente Nel prossimo Weekend League Questa qua Che giocheremo a breve E le prossime Sperando di rinnovare Migliorare La mia rosa Quindi fatemi sapere Se vi piace Se volete Se devo migliorare qualcosa Ripeto Non compro nulla È inutile Mi scrivete tutto Quello che volete Userò i giocatori Che ho a disposizione E ce ne ho tanti Quindi fatemi sapere Lasciate like Scrivete un commento E fatemi sapere Le vostre rose Perché vogliono sapere Le vostre rose Sono curioso Di sapere se Sculate Abbastanza come me O niente di particolare O trovate giusto i soldi Per comprare i giocatori E giocare a quelli là Vi invito a lasciare like Iscrivervi al canale E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti